Ciao a tutti da Carla su Divertirsi in Cucina. Oggi prepariamo dei tartufini al limone. Sono semplici, deliziosi, super veloci da preparare. Sono freschi, leggeri, perfetti per una merenda estiva. Gli ingredienti per questa ricetta adesso ce li dirà Chiara perché io già me li sono dimenticata. Allora, per prepararli avremo bisogno di 80 g di biscotti sbriciolati, 30 g di zucchero e la buccia grattugiata di un limone e 175 g di formaggio spalmabile tipo viradelfia. Per prima cosa unite lo zucchero e la scorza grattugiata del limone al formaggio spalmabile e mescolate con un cucchiaio. Per quanto riguarda i biscotti Chiara li ha spezzettati a mano, però potete utilizzare anche il mixer o il bimbi. Come tipologia di biscotti potete utilizzare i biscotti che preferite, giusto? Unite il tutto all'interno della ciotola con i biscotti sbriciolati. Mescolate sempre con un cucchiaio in modo da ottenere un composto omogeneo. Questo è l'impasto. Prelevatene una piccola porzione e create una pallina. Eccola qui la nostra pallina. E adesso passatela nel coccorapè. I tartufini sono pronti. Inseriteli all'interno di un piccolo pirottino di carta. Ed eccoli qui pronti. I tartufini al limone sono pronti. Potete già mangiarli subito. Oppure se vi piacciono più freschi, lasciateli riposare un pochino in frigorifero. Ed eccoli qui. I tartufini sono pronti per essere gustati. Con questa dose a me sono venuti 12, però potete farli anche più grandi o più piccolini. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Fateci sapere se provate a farli. Fateci sapere anche come stanno andando le vostre vacanze. Se siete in ferro o se siete a casa. Noi siamo a casa. E nulla. Ci vediamo alla prossima videoricetta. Ciao! Ciao! Ciao!